La prima formula per risparmiare sulle emissioni nocive e clima alteranti è usare meglio, con più intelligenza, con più efficienza i mezzi di trasporto. E un grande griff dei servizi collettivi italiani, che è Telepass, un sinonimo del telepedaggio, in realtà da tempo sta facendo proprio questo mestiere, sviluppando una piattaforma efficientissima che è usata bene, permette a tutti noi di ottimizzare i tempi e i modi dei propri trasporti personali, ma non solo, e alla fine risparmiando danaro e quindi CO2. Siamo con il Chief Business Officer di Telepass, non voglio sbagliare, Paolo Malerba. Allora, che cosa possiamo dire in sintesi per far capire come si fa attraverso uno smartphone a risparmiare benzina? Allora, innanzitutto in termini di sostenibilità, Telepass dal 1990, quando è nato l'utilizzo del dispositivo che consente di saltare la coda al casello, contribuisce a ridurre le emissioni, perché per sua natura non fai la coda, non devi fare lo stop and go. E questo è uno studio che ci è stato certificato dall'Università Ca' Foscari e solo nel 2023 che utilizza Telepass ha consentito di risparmiare 72.000 tonnellate di emissioni o 2 in meno. Quindi circa 700.000 viaggi Roma-Milano. Ma veniamo all'evoluzione che ha avuto Telepass, che non è più soltanto l'azienda nota per far risparmiare tempo al casello, ma siamo un vero e proprio ecosistema dedicato ai servizi di mobilità per persone, per aziende e quindi per i dipendenti. Di fatto con Telepass siamo promotori dell'utilizzo anche di servizi che puntano ad una transizione più green. Quindi oggi con Telepass, non tutti sanno, ma diamo la possibilità tramite la nostra app di fare la ricarica elettrica, in oltre 40.000 con le linee di ricarica distribuite su tutto il territorio nazionale. C'è la possibilità di acquistare biglietti per il trasporto pubblico locale nelle più grandi città. C'è la possibilità di noleggiare, quindi fare bike sharing, scooter sharing, quindi la mobilità dell'ultimo milio nelle città che sono sempre più urbanizzate. I giovani, la Gen Z cosiddetta, è molto più sensibile per mindset, non più al concetto di proprietà, quindi è molto più aperta alla condivisione, allo sharing. E di fatto può essere una formula attrattiva per le aziende quella di garantire un pacchetto nell'ambito del welfare, un pacchetto di mobilità per i propri dipendenti e non più soltanto, quindi per i più giovani, l'auto aziendale. Insomma Telepass si colloca come enabler per garantire una mobilità sempre più smarta, flessibile, integrata e digitalizzata. Complimenti soprattutto per quanto riguarda l'estensione del concetto del welfare aziendale anche a chi non disponga della macchina. Questo è un fatto di civiltà e c'è un pre-favoro della Regenze delle Entrate in un interpello che avete posto voi perché si vada a normare questa possibilità. Sì esattamente, grazie a un interpello che abbiamo posto alla Regenze delle Entrate tutti i servizi che si muovono in un'ottica green, quindi mi riferisco alla ricarica elettrica, al trasporto pubblico locale, allo sharing, quindi al bike sharing, scooter sharing, quindi alla mobilità elettrica. I dipendenti che si muovono nel loro trasporto casa lavoro possono godere di un plafond di mobilità che non concorrerà all'imponibile di reddito del dipendente e per l'azienda potrà godere, potrà rientrare nell'ambito che la normativa oggi prevede di fiscalità per i servizi welfare. Bravi, grazie. Continuate così.